po parZe sono iniziale nella casa di fronte avete visto qualcuno managesa mary ora che amazon Funcioni? myself cuore fai l'ipad, muro只是 pren grecia grazie grazie ma non so se gli piace perchè a me me le fa però non so se gli piace non so se gli piace Poi lì arrivo qui non so ancora dai bro c'è un'altra in mezzo è un altro ma non c'è neanche di qua è qua c'è una a me è un team 40 guarda dovremmo andare ora solo per sciudino no per sciudino no no per sciudino vabbè vabbè non puciamo lascia di casa ma non ho scarsa fa male fa male quello che ti muovono vabbè mi spammano vabbè mi piove questo nooo è morto vabbè ma questo qua porca troppo è morto un altro finisci finisci è mini? lo facciamo questo insieme devono andare sto qua nel box è morto 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 bello su pochino legno ah niente cosa vuoi però eh però eh ma tu vedi come cazzo fai le cose? se metto la scala c'era il butto davanti e mi copo ah perchè se metti la cupola editata no e non posso passare poi no voglione di merda guarda che si metteva la scala però editava l'altra parte lo so ma gli devo dare una lezione o no avete due colpi a south? non c'ho nulla non c'ho devo arrivare anche al fin giro non c'è un pariamento non c'è proprio uno partì due o uno? uno c'è uno con lì in ferro c'è 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 lo so che c'è messo no che grazie che è medico I medici, i medici, ci avete una sardina? Eh Sometimes I'm killing you Dammi sto robo, dammi a quello Muoviti Muoviti Devo farti saltare all'aria come qui Oddio la minican che faccio? La prendo sti cazzo Mi hai stemmiato te Ho detto sti cazzo No ho sentito, or coddio La minican Venga, ma quando mai? Sincero Io l'ho sentito Anche io l'ho sentito L'hai chiamato orco L'hai chiamato Ma va bene Vediamo la partita Non ho cura io però eh Ma te non devi dovevi andare Tipo la ventesima partita Ma chi serve? A me? Si Ma raga, ho detto la partita prima Ha detto finiamo queste e poi me ne andiamo Lui è la partita Siamo est Sono restato Sono restato Rebutato 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 Sparmo di ninja Sparmo di ninja Sparmo di ninja Sparmo di ninja Guarda il punch shot One shot guarda in aria Spar�amp Lecce 5 29 40 La vagina Il Norgod Non è piena c**** Per voi Sembra Rene Non ci è pieno Per tu Non tu La roles Se Deve Trasera O Non 300 Tazioni Quanto non solo, e poi devi farlo altro team? scappa scappa dove? apri! apri apri! arriva! chi è? sono morto salti ai minimi non ci sono! non c'è nessuno sono morto sono morto sono morto è morto è morto è morto è morto è morto non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno dov'è andare? è morto lì 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 guarda è morto Si è buttata giù? Raga, l'ha fatto al primo colpo, l'ha preso il muro Peccato comunque per Hamilton La banana commissionata Bravo, ok? Nice Comunque, cioè su Hamilton, Hamilton aveva preso Un cazzo Bello, bello Che io con me hai da sti incoglioni Ah, mi sto, bello, bello Non c'è giusto su, mi sto Stiamo intorno? Ressiamo mano qua, sono rimasti gli ultimi due team Dai 10 cebbini per la prima volta Mi emozione Ah, per favore Stai da segnalare, secondo me Non mandare la casa, non mandare la casa Regà, tiro i materiali Guarda, vieni, 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 vieni la casa Guarda, sono matto da me, sono matto da me Guarda, vieni la casa, vieni la casa Vediamo se ci sono cure Non prima Non è il stato, non è il stato Sparati, 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 sparati Eh, sta in cazzo No, da dove? Dai, da dove? Noo Con banana e mele Con banana e mele Che vuoi? Avanti, avanti Andata, che sta Che bisogna fare? La glaccia, la glaccia Lo so Lo so che la glaccia Quello lì in area lo fa Quello lì in area lo fa Stai TICTEL! 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 Raga, stavano a campionare a TECTEL tempo solo a mio impegno, pure TECTEL Non so se siamo da 8% ANN RIA! E finalmente, mamma mia che parto Portare a RIA con questo mano